torna l'appuntamento con i presepi di ossana borgo green dell'alta val di sole fino al 6 gennaio oltre 1600 natività saranno esposte lungo le vie del paese medievale nel segno della sostenibilità e delle eccellenze locali ci sono alcune novità particolari come il presepe a chilometro zero come al presepe illuminato con dei batteri quindi hanno preso del terreno ci ha messo dei fili ci ha messo le loro magie scientifiche è una start up di alcuni studenti dell'università di trento in collaborazione con l'università di milano che hanno messo appunto questo sistema che illumina appunto il presepe le opere sono come sempre distribuite fra le strade di ossana fino alle imponente scenografiche rovine del castello di san michele durante tutto l'anno e durante questi ultimi anni la nostra attenzione l'attenzione dell'amministrazione ma anche della comunità verso l'ambiente verso il verde che ci circonda verso il nostro pianeta in fin dei conti è sempre stata molto alta un'attenzione che si traduce in zero plastica sul percorso ad esempio le casette fatte di legno certificato e tante altre cose che rappresentano tutto il nostro lavoro di tutti questi ultimi anni che va nella direzione di salvaguardare appunto l'ambiente e il pianeta grazie a tutti